Lega Pro nel turno di ieri, interessanti novità, la Pro Patria espugna il campo della Giannerminio che era settima in classifica in piena zona playoff, una prestazione convincente con gol di P2 e Vaghi, espugnano il campo di Gorgonzola, assolutamente risultato inaspettato. Sfida invece di bassa classifica tra Novara e Alessandria, un Novara che fa un discreto primo tempo, l'Alessandria con numerose assenze, 10-13 assenti, tiene il campo comunque e il Novara fatica al novantesimo, riesce a portare a casa tre punti fondamentali. Negli altri gironi, mentre c'è il girone B e il girone C, sicuramente il risultato importantissimo della Casertana che va a espugnare 2-1 Monopoli e continua la sua cavalcata verso la vetta della classifica. E una Virtus Verona che perde in casa mentre invece contro l'Atalanta, un Atalanta che esce dalle zone un po' sappiose della bassa classifica, sconfitta del Virtus Francavilla a Picerno, un Picerno che ha dominato la partita e assolutamente riuscito a portare a casa un ottimo risultato. Pari della Spal, una Lega Pro che in questo momento nel girone A vede un mantova lanciatissimo, e che sicuramente nel girone C c'è una Juve Stabia con grande entusiasmo, direi che il girone B è il più equilibrato, dove ci sono diverse squadre che potrebbero raggiungere la vetta, c'è da aspettare la giornata di oggi e vedere un attimino come si evolvono i gironi, dopodiché li commenteremo a inizio settimana. Comunque una Lega Pro che sta regalando grandi emozioni e che sta regalando anche qualche giovane di talento da lanciare finalmente.